Spesso mi hai raccontato di come la tua attività di collezionista sia nata anche proprio in relazione al tuo rapporto con le istituzioni pubbliche, come le due cose non sono state un momento separato dall'altro o successivo ma anche un po' in sincrono e visto che tu hai un'esperienza plurima dal senso che hai sia sostenuto le istituzioni da un punto di vista della donazione del comodato, delle opere in alcuni momenti, poi hai anche sentito l'esigenza come dire di fondare la caccia e quindi di diventare ulteriormente un soggetto di relazione con il mondo delle istituzioni. Quindi volevo appunto chiederti magari di raccontare un po' la tua storia da questo punto di vista, come queste due funzioni, questi due momenti della tua storia si sono intrecciati nella tua particolare esperienza sempre con questa idea appunto del collezionismo come una forma di autobiografia. Buonasera a tutti, la mia storia inizia a Torino, ho sempre amato l'arte però non non ero una collezionista, non lo era neanche mio marito, viaggiavamo in tutto il mondo ma non portavamo un bagaglio di emozioni ma non opere. Poi negli anni, a metà degli anni 90 mi sono avvicinata di più al castello di Rivoli e ho coronato un sogno, io sognavo dei musei in Italia di arte contemporanea, vedevo tutti questi musei all'estero e sognavo di avere anche noi nella nostra paese musei di tutti insomma di tutti i tipi. Così ho iniziato ad acquistare delle opere autonomamente appositamente per il castello di Rivoli, allora all'epoca non era così ricco con questa collezione così sostanziosa come adesso ma facevano delle bellissime mostre, uno spazio meraviglioso ma si sentiva la mancanza di una collezione. Così ho iniziato a comprare in un'ottica museale opere di Tony Craig, di Spalletti, di Vezzoli, Marlène Dumas, Weir Croix e le ho date appunto incomodato perché l'idea era quella che fossero fruiti dal pubblico quindi non esisteva ancora una collezione domestica, in realtà non esisteria anche adesso perché quando acquisto un'opera non mi pongo mai il problema come entrerà, dove entrerà, quindi è così, sono appunto così. Nello stesso tempo avevo chiesto di istituire un gruppo di sostenitori affinché sostenessero i nostri artisti, i giovani artisti italiani attraverso la borse di studio, attraverso le borse di sindi di studio. Dopo Torino sono arrivata a Milano e mi sono accorta appunto che c'era poco dialogo tra il privato e il pubblico e così ho chiesto a un gruppo di collezionisti, ho presentato un progetto, un progetto che tuttora portiamo avanti, dove come primo obiettivo c'era il dialogo con l'istituzione, sostenere l'arte contemporanea italiana possibilmente e l'altro obiettivo andare a braccia aperte verso l'istituzione e quindi costituire una collezione da donare al museo che non c'è, l'abbiamo denominato già da loro nel 2003. Devo dire che il rapporto con l'istituzione è stato subito, ci hanno accolto bene e tuttora abbiamo realizzato tutti i progetti che abbiamo presentato sono stati portati a termine. È rimasto un paio di questioni certamente ancora tutti da discutere. Tra le altre cose abbiamo creato subito rete tra la fiera, le gallerie, i collezionisti e gli artisti. All'epoca appunto la fiera è cresciuta poi piano piano in questi ultimi tempi ma all'epoca appunto non andava molto bene anche perché i galleristi, quelli più importanti, non partecipavano. Allora abbiamo creato un circuito di galleristi che fossero andati alla fiera, avremmo rappresentato nella casa dei collezionisti, perché c'era anche questo problema, non era abitudine quello di aprire le case ai collezionisti. Quindi in un mese siamo riusciti a far tutto, a far aprire le case ai collezionisti, far andare le maggiori gallerie alla fiera e realizzare delle persone nelle case dei collezionisti. Dopo di quello abbiamo poi organizzato conferenze, tantissimi eventi, abbiamo avuto sempre spazi, devo dire a Palazzo Reale, oltretutto non solo con il Comune, abbiamo stretto anche con la Provincia, abbiamo fatto la mostra Ece Uomo, abbiamo poi anche al Move a Venezia durante la Biennale nel 2013, al Museo di Storia Naturale, abbiamo presentato i nostri artisti, poi nel 2015, proprio perché le opere non devono stare in magazzino, secondo noi, devono vivere, e quindi abbiamo chiesto al Museo del Novecento di accogliere le opere. Sono state accolte benissimo, circa 30 opere, credo sia uno dei musei forse che ha una collezione di artisti delle ultime generazioni. Sono 30 artisti che vanno da Cattelan a Lara Favaretto, Tatiana Trouvé, Grazia Toderi, insomma un panorama di nomi di tutto rispetto che sono più conosciuti forse all'estero che da noi. La nostra qualcosa vuoi sapere? Però ecco, questa cosa adesso relativamente appunto alla donazione al Museo del Novecento è un aspetto molto importante, perché, come dire, quello di cui si parla spesso è il fatto che anche, allora in Italia non è che ci siano chissà quanti musei d'arte contemporanea, soprattutto quelli che si possono definire musei nel senso che hanno una collezione, perché poi ci sono anche tanti centri d'arte contemporanea che hanno una loro funzione molto importante per la produzione delle mostre, però ci sono pochi musei che hanno una collezione, quindi che si possano definire strutturalmente musei. Esatto. E quando poi si va a toccare il tema dei budget a disposizione per l'acquisto delle opere, si apre un capitolo abbastanza drammatico da questo punto di vista. Quindi quello su cui bisogna anche molto riflettere è su che memoria collettiva stiamo costruendo sull'arte dei nostri giorni. Perché, come dire, quando si fa sempre l'esempio della Palma Bucarelli che riuscì a comprare i burri che oggi possiamo ammirare alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, cioè si fa l'esempio di qualche cosa che era estremamente contemporaneo negli anni in cui lei li ha acquistati. Quindi questo è un nodo centrale, nel senso che la collezione del museo è anche uno degli strumenti con cui la collettività scrive e forma la propria coscienza collettiva, racconta la propria storia. E in questo momento mi sembra che purtroppo stiamo un po' abdicando a questa funzione. Per tanti motivi legati alla... Quindi ecco perché un'esperienza come quella della donazione di Acacia, che, come dicevi giustamente tu, è molto focalizzata sugli artisti italiani delle ultime generazioni, ecco questo è un aspetto da non solo salutare. Non stiamo parlando semplicemente di opere molto belle, ma anche di una donazione che può raccontare le ultime generazioni. Ecco, quindi questo è un aspetto da non sottovalutare, non solamente nella relazione che può esistere tra il collezionismo privato e l'istituzione pubblica, ma perché anche appunto ha una efficacia in quella che è una funzione primaria dell'istituzione pubblica, quando parliamo di museo come collecting institution, ecco così. Grazie. 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 Grazie.